Viste, è arrivata questa prima vittoria del 2024, avete iniziato subito bene l'anno, ma soprattutto confermate un trend positivo rispetto a quanto avevate concluso nel 2023, vittoria in casa che mancava da fine novembre. Sì, per te mancava da fine novembre, per me invece l'ultima in casa l'abbiamo vinta, che è quella con l'angolana, aperta e chiusa parentesi. Io penso che negli ultimi otto ne abbiamo persa una sola, potevamo fare qualche punto in più, sappiamo che dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, però al di là del risultato, che è una vittoria per noi essenziale, avevo detto ai ragazzi che era una finale contro una vastese, che comunque è vero che ha fatto tanti movimenti sul mercato, ma è una squadra viva e solida. Mi è piaciuta tanto la prestazione, la prestazione di squadra vera, di squadra con carattere, di squadra intelligente, a tratti, nonostante abbiamo chiuso con un 2006, due 2005, qualche 2004 buttato così, è stata, è sembrata proprio una squadra esperta. E questo è un miglioramento che abbiamo fatto d'agosto, secondo me è il più grande. Detto questo, non guardiamo la classifica, noi dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali, poi si vede dove arriviamo. Ma ripeto, è stata una prestazione veramente di livello, sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo del gioco, mi è piaciuta tanto, faccio i complimenti ai ragazzi, ma si è già chiusa la partita di oggi, pensiamo alla prossima. Detto è arrivata questa sconfitta a Palermo, fin quanto ha potuto, ci ha messo le pezze, poi comunque avete avuto anche le buone occasioni. Chiamiamole pezze, io tutte queste pezze non le avevo viste, ho fatto l'ordinario nel primo tempo, ma quelle sono parate che devo fare. Poi sul gol che abbiamo preso, la prima è verta, non nemmeno forse non l'ha parata, però il portiere è anche per questo. Io analizzerei la partita e sono sempre abituato ad analizzare la prestazione, per me la prestazione oggi c'è stata, considerando che avevamo Cauteruccio, Valerio, Eteo, Raymond fuori e altri che ancora non stanno bene, hanno avuto dei problemi, giocando con cinque andre, poi abbiamo finito forse con sette. Penso che alla squadra ci sia poco da rimproverare, piuttosto da fastidio perdere in questo modo e poi avere pure la possibilità di quella palla al novantesimo, che il ragazzino non è riuscito a calciare. Bene, ci siamo anche questa sconfitta, per me è meritata, anche con tutto il rispetto a Stambuceto non penso ci sia di gran lunga superiore, anzi avrei pure da dire che siamo a pari come squadra. Adesso le partite con queste squadre non valgono doppie, dobbiamo resistere, ma ripeto, io guardo sempre la prestazione, la prestazione della squadra mi ha soddisfatto in toto, quindi andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Possiamo dire che da oggi è iniziato comunque il nuovo corso della Vastese. Sì, diciamo che avevamo programmato delle situazioni pure in settimana e poi sabato durante la rifinitura due o tre ragazzi hanno accusato dei problemi e quindi abbiamo dovuto pure stravolgere la formazione che magari forse il mister ha in mente, non lo so, però purtroppo questa squadra, ripeto, sappiamo di dover soffrire fino alla fine, abbiamo detto subito dall'inizio, quindi è inutile piangersi a doio, non sono un tipo che si abbatte facilmente, è vero che sono quattro sconfitte, però sono figlie magari da quando siamo arrivati noi di misura, che comunque anche rispetto a domenica secondo me c'è stata una reazione importante, quindi spero che da domenica riusciamo a stravolgere questo trend, quindi ripeto, è vero che sono figlie della stessa società, però la squadra non sono scuse perché a me, ripeto, se mi entra un martiniello 2005 in questo modo a me mi sta benissimo, quindi mi fido di questi ragazzi, io ci crederò fino alla fine, se ci sono altri che non credono oppure non credono a questa squadra io non sono quello sicuramente. Mi pare che il presidente ci crede pure, il mister da quello che dice ci crede pure, io sono qua perché ci metto sempre la faccia, la scelta è stata fatta, sappiamo di dover arrivare in fondo e avere delle sofferenze per come è questo periodo, io sono sicuro che la squadra reagirà nei modi e nei giusti termini, già fin da domenica quando affronteremo una signora e la squadra pure, ecco, quelle squadre io le considero signore, ma tante altre squadre che sono giù insieme a noi, per me possiamo tranquillamente competere con loro, non dico che siamo superiori ma ce la dovremmo battere con tutte queste qua, poi se consideri le 3-4 squadre che ci sono avanti, 7, 8, 10, sicuramente ci saranno, ma quelle noi non le pensiamo proprio perché non le abbiamo mai pensate dal primo giorno, quindi ripeto, andiamo avanti.